amici di fano tv ben trovati quello di questa sera è il primo di una serie di appuntamenti in cui ci occuperemo di passaggi festival la manifestazione estiva dedicata alla saggistica giunta alla nona edizione l'edizione più lunga e sicuramente anche più ricca dal 18 al 25 giugno tra mare e città tanti 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 gli appuntamenti tanti gli ospiti siamo qui per parlarne con il direttore artistico Giovanni Belfiori buonasera benvenuto buonasera e intanto grazie per l'attenzione che dedicate al festival anche quest'anno speriamo di portare in città una serie di eventi importanti interessanti sicuramente sicuramente tanto attesi tanto atteso questo d'infinito e provvisorio ci all'occhio anche la locandina stessa con una grafica insomma significativa sì intanto cominciamo col dire che passaggi festival per chi non lo conoscesse è una manifestazione letteraria che ha al centro i libri ma non solo i libri poi lo vedremo è un festival di parola come si dice nel mondo del festival perché ci sono tanti tipi di eventi e il nostro ha scelto di portare il libro al centro di ogni iniziativa poi ci sono anche altre caratteristiche di passaggi festival è un festival per esempio che non ha una sola sede ha tante sedi un festival partecipato diffuso sia nel centro storico che nel lungomare di Fano un'altra caratteristica di passaggi festival è la gratuità tutti gli eventi sono gratuiti e questo permette una partecipazione piuttosto ampia perché diffusi tra il centro storico il mare gratuiti e numerosi sicuramente in questi anni abbiamo avuto gratificazione il pubblico ci ha gratificato di una presenza importante quest'anno io non lo so come andrà il programma è interessante spero il tema è un tema affascinante con tema che pone degli interrogativi dei dubbi noi l'abbiamo scelto sotto quell'omino quella persona perché non è né un uomo né una donna che ha le ali di farfalla e c'è un verso del purgatorio di dante e questo infinito e provvisorio proprio vuole interrogarci sulla nostra condizione soprattutto in questa epoca non facile insomma di epidemia segnata anche dai lutti dalle difficoltà dalla privazione di libertà che fino a ieri ritenevamo come dire quotidiane quasi banali noi ci sentiamo sempre animati di infinito ci sembra che non finirà mai nulla ma la provvisorietà come dire è anche un'esperienza quotidiana e quindi attraverso i libri attraverso tanti autori che portiamo vogliamo anche interrogarci su questo tema non è un tema che pervade tutto il festival sono come ogni anno una sorta di parola d'ordine su cui andremo a interrogare gli ospiti ma poi i libri sono davvero di tantissimi generi diversi e di tantissimi argomenti diversi e tante anche le tematiche che abbracceranno e abbracciano comunque una fetta di pubblico molto variegata insomma passaggi non è un festival d'élite un festival per tutti quanti assolutamente sì l'obiettivo è quello di parlare a fasce di pubblico diverso noi abbiamo velocemente una ricognizione sulla mappa del festival che in realtà è anche un modo di leggere il festival stesso per esempio nella mediateca montanari nel centro storico di fano ci sono iniziative per i bambini presentazioni di libri e laboratori al pincio ci sono eventi dedicati a un pubblico più giovane fuori passaggi music and social si chiama così una rassegna e un'altra rassegna di graphic novel alla chiesa di san francesco cioè ci sono tutta una serie c'è tutta una serie di libri magari di nicchia magari con autori non così conosciuti che però possono interessare interrogare magari un pubblico di lettori curioso ed attento in piazza noi portiamo nomi popolari chiaramente li scegliamo attraverso una selezione attenta dei libri nomi popolari che accontentano naturalmente un pubblico eterogeneo la cifra di passaggi festival anzi dimenticavo anche nel lungomare ci sono i libri quest'anno abbiamo una sede nuova a lido il bonbon a torrette bagni torrette e anche lì saggistica libri perché dicevo la cifra di passaggi festival non è quella di rivolgersi a un pubblico di lettori forti cioè noi non ci rivolgiamo semplicemente a chi magari in un mese legge tre o quattro libri certo ci rivolgiamo anche a loro ma ci rivolgiamo soprattutto a un pubblico magari che come dire a qualche timidezza in più rispetto alla lettura per motivi personali per motivi di tempo di lavoro di interessi ecco a questo pubblico che legge meno noi proponiamo dei libri poi ognuno ovviamente fa la scelta che vuole un libro gli può piacere gli può non piacere un autore gli sta simpatico un altro non gli può stare antipatico e non sopportarlo però quello che è importante è che noi davvero è come se buttassimo tanti libri su un tavolo e poi ciascuno va a pescare quello che più gli piace bene e in questo calendario ricco di appuntamenti noi dobbiamo parlare di qualcosa di importante lo facciamo con il dottore Claudio Pettinari rettore dell'università di camerino buonasera benvenuto allora dobbiamo parlare di unicam sì noi siamo partner ormai da ben sei anni di passaggi festival dal 2016 ed è una partnership che ci riempie sicuramente di gioia perché ha portato risultati importanti e significativi noi speriamo di aver contribuito al successo di passaggi ma ha portato risultati anche nelle nelle nostre aule universitarie ci siamo avvicinati a questo festival siamo perfettamente convinti che la cultura la lettura la scrittura siano da accoppiare alla scienza una scienza che non può essere comunicata se non c'è parola se non c'è narrazione oggi c'è proprio questa necessità lo accennava prima Giovanni Belfiori di parlare a persone diverse in maniera diversa in momenti diversi e quindi bisogna utilizzare la parola nella maniera corretta in maniera tale da dare la la giusta informazione e questo è un compito che oggi le università devono avere scendere nelle piazze scendere anche nei lidi piuttosto che nelle strutture bellissime che ci ospiteranno a Fano e utilizzare le giuste parole per raccontare infinito e provvisorio e noi saremo lì con due attività diciamo che poi si differenzieranno in una serie di appuntamenti attività di laboratorio di cui ha parlato già a Giovanni Belfiori dedicate ai bambini ai ragazzini alle bambine e alle ragazzine da sei a dieci dodici anni e poi avremo invece degli aperitivi aperitivi che dovranno avere una caratteristica doppia quella di essere di essere leggeri e comprensibili ma d'altra parte trasferire quelle quelle importanti conoscenze che ognuno di noi vuole che siano trasferite che magari talvolta sono difficili da comprendere ci sono degli argomenti che sono ostici che però ci attraggono particolarmente poi dopo magari nel dettaglio potrei raccontare ad esempio uno dei primi appuntamenti che è quello sulle onde gravitazionali ecco oggi quella parola è sulla bocca di tutti ma capire che cosa sia un'onda gravitazionale non è semplice i nostri ricercatori i nostri scienziati i nostri docenti cercheranno di spiegare in maniera semplice non abbiamo fatto tutto questo senza aver dato uno sguardo importante a quello del programma è il titolo il tema che passaggi festival stava portando avanti di infinito e provvisorio nostri laboratori guarderanno e guarda questa meravigliosa locandina tutta rossa guarderanno al colore non c'è nulla di più diciamo infinito e provvisorio del del colore nelle negli oggetti nella natura no pensiamo ai colori che cambiano dei nostri campi a seconda della stagione però è qualcosa che poi si sta ripetendo all'infinito avremo quindi il biologo naturalista francesco pedretti che farà laboratori diciamo un biologo di fama di fama direi internazionale ma soprattutto un grande divulgatore che parlerà ai ragazzi della dei colori della natura del colore della flora della fauna infatti i colori della chimica i colori dell'informatica i colori i colori della chimica che chiaramente sono colori che possono svanire e riapparire possono cambiare come quelli di un quadro che che degradano magari nel tempo e possono essere rinnovati possono essere più persistenti provvisori e meno provvisori possono essere i colori del dell'acqua ad esempio il colore del sapore dell'acqua questo ha un titolo che è un'eccellenza in sé ma l'acqua ha il suo colore e da e quel colore lì è bello immaginare che noi possiamo conoscerlo per bene perché per capire che qual è anche l'effetto diciamo curativo che ha sui nostri sulle nostre anime sui nostri animi e poi avremo questi aperitivi dove diciamo i nostri fisici i nostri chimici i nostri informatici cercheranno di trattare appunto quei temi mettendo insieme questa è una caratteristica che che noi abbiamo sempre cercato di portare a passaggi la multidisciplinarietà l'interdisciplinarietà mettere insieme discipline diverse e avvicinare attraverso anche la scienza esatta la scienza dura la la scienza difficile da comprendere a quelli che invece oggi sono diciamo temi di interesse della società quindi mettere insieme la società e la scienza insieme Saranno calici di scienza quindi alla portata di tutti insomma rassegne e mostre per piccoli ma anche per gli adulti perché abbiamo sempre bisogno di imparare e crescere e confrontarci Sì Claudio diceva prima giustamente come questi appuntamenti sia i laboratori sia i calici di scienza siano davvero alla portata di tutti anche mia che di scienza non so nulla però quando vado lì e assisto a queste presentazioni sono divertenti la prima cosa e il colore del sapore dell'acqua sembra il titolo di un romante è fantastico quello l'appuntamento impara il 23 giugno forse dovremmo scriverlo forse dovremmo scriverlo e poi tra l'altro il magnifico rettore di Camerino sarà presente a Fano due volte il 22 e il 25 vale la pena citare queste date perché sono anche lì due incontri molto interessanti i calici di scienza che si tengono all'Uccellin Belverde che è una sala da te in via Rinalducci in centro storico a Fano nascono proprio con l'intenzione di chiacchierare insieme Claudio cioè di prendere un aperitivo che viene offerto dall'organizzazione quindi chi va lì ha l'aperitivo che offriamo noi e di chiacchierare, di conversare con i docenti e con il rettore di Camerino io trovo che sia una formula fantastica e devo dire che ormai ci sono gli appassionati cioè le stesse persone che si ripresentano ogni anno a cui evidentemente la formula piace assolutamente sì ma io credo ce ne saranno anche di nuovi anche perché con la pandemia non solo c'è voglia di aggregazione però molte persone hanno sentito proprio la mancanza di questi appuntamenti insomma di spessore perché arricchiscono tutti quanti c'è un'attività meravigliosa secondo me che faremo quest'anno la voglio citare perché prima Giovanni ha citato Dante con i ragazzi soprattutto, con i nostri studenti universitari, con i nostri dottorandi porteremo proprio la scienza di Dante e quindi tratteremo tra l'altro l'infinito e il provvisorio in Dante sono diciamo temi ma tratteremo la fisica che è presente in Dante l'astronomia, la chimica, la biologia, la geologia tanti aspetti che hanno caratterizzato diciamo la commedia perché Dante era un attento esaminatore potremmo dire che lui avrebbe sicuramente partecipato ai calici di scienza perché voleva assolutamente conoscere ciò che scriveva era qualcosa che aveva maturato dopo un'analisi attenta di quello che avveniva in quel periodo anche da un punto di vista, chiamiamolo così, scientifico o comunque di cultura tutto quello che c'era di cultura nel 1300 Dante ne era consapevole Volevo aggiungere che la partecipazione di Camerino che c'è dal 2016 quest'anno nella parte dei laboratori è limitata tra virgolette alla Mediateca Montanari ma voglio ricordare che l'impegno dell'Università di Camerino non è soltanto appunto sui calici di scienza e sui laboratori in Mediateca ma l'Università negli anni pre-Covid diciamo così dal 2019 all'indietro ha svolto laboratori in spiaggia un successo incredibile avevano questi laboratori perché mettevano insieme la curiosità, l'originalità con l'aspetto scientifico didattico quindi è un complimento sincero quello che faccio a Camerino perché per noi è un partner irrinunciabile un partner forte del festival assolutamente Innoveremo 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 anche quest'anno avremo un laboratorio molto interessante di informatica mostreremo delle formiche delle formiche che guarderanno al colore che sapranno riconoscere il colore che quando magari il colore scomparirà rimarranno un po' disorientate diciamo loro seguono esattamente come se fosse un codice il colore e saranno delle esperienze interessanti che si aggiungeranno ad altre che sono già consolidate tipo quelle della chimica ma diciamo avremo dei laboratori nuovi perché il bello è anche questo che i nostri giovani ricercatori cercano sempre di portare i nuovi risultati e di trasferire le informazioni su ciò che c'è stato di nuovo in questo periodo bravi non a caso ci leghiamo all'eccellenza della regione dobbiamo legarci a questo perché poi è chiaro che è un mondo in evoluzione e dobbiamo far vedere l'evoluzione bene quindi troverete online naturalmente tutte le date con tutti gli appuntamenti di mostre, laboratori e quant'altro su passaggifestival.it c'è il programma giorno per giorno c'è il programma diviso in rassegne e c'è anche la mappa della città dove uno clicca sul luogo ed esce fuori il programma sul sito c'è una informazione importante aggiungo una cosa che apriremo fra poco le prenotazioni è importante perché ci arrivano continuamente i mail e dal sito si avranno tutte le informazioni e le modalità per prenotare perfetto, perfetto io vorrei ringraziare e salutare anche tutte le persone che lavorano dietro le quinte di passaggi perché la mole di lavoro è tanta ma altrettanti sono coloro che si adoperano insomma tanti volontari da tutta Italia sì, il lavoro di passaggi è un lavoro annuale può sembrare strano ma in realtà noi iniziamo a lavorare per l'edizione 2022 a settembre di quest'anno quando è dicembre di quest'anno noi abbiamo già il programma delineato e da dicembre in poi lo affiniamo completiamo la selezione dei libri e ci occupiamo della parte logistica organizzativa della parte di comunicazione della parte del marketing tutto questo non può essere fatto senza una struttura importante noi, come dire, con i pochissimi soldi che abbiamo riusciamo a fare miracoli ma non è che facciamo miracoli perché siamo migliori di altri facciamo miracoli perché siamo riusciti a fare una squadra una squadra di persone più o meno sono molto più giovani di me perché si tratta di ventenni e trentenni che lavorano in maniera gratuita a volte con qualche rimborso spesa ma la maggior parte delle volte in maniera assolutamente gratuita che lavorano per il festival da settembre fino a giugno bene termina così questo nostro primo appuntamento con Passaggi Festival a seguire ce ne saranno altri due e quindi non svegliamo nulla per ora assolutamente io ringrazio Claudio Pettinari per essere stato con noi buonasera a tutti grazie Giovanni Belfiori grazie grazie Riccardo Sora in regia e tutti voi per la cortesia attenzione buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.